amici dalle tue frequentazioni questo lo farà cercherà di farti sentire depressa o depresso ansioso tra l'altro il narcisista è lui fortemente depressa e ansioso ovviamente e però tiene queste caratteristiche ben mascherate dal meccanismo difesa per cui riscoprire il meccanismo difesa e amplificarglielo beh è un qualcosa di fondamentale il narcisista cercherà anche di farti perdere la fiducia in te stesso e di farti perdere la speranza no perché come dire i derelitti mentecatti i poveracci sono molto più manipolabili delle persone forti delle persone che hanno una grande autostima quindi fidati del tuo istinto se senti che c'è qualcosa che non va è perché qualcosa non va non prendere quello che ti dice sul personale è manipolante cercherà di farti sentire in colpo inadeguato ti insulterà ma tu prendilo come se un ubriacone quando è